AAAAAA! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII in quanto sono bravo in quanto sono bravo in quanto sono bravo in quanto sono bravo Sto prima e lo sapete benissimo che se si sta zitti concentrati forse c'è una Speranza in più di vincere una parte su fortnite se si cazzeggia enormemente come faccio io è un pochettino più difficile però ci Proveremo quindi mi raccomando animale animale carichi un bel mi piace scendiamo giù nella landa come panda Scatenati sto vedendo che vi stanno piacendo tantissimo I video in solo non pensavo ogni volta porterò una skin diversa mi raccomando l'importante essere carichi Ok diciamo che abbiamo fatto un atterraggio quasi perfetto guarda gli altri quanto sono alti ma jayden è perfetto raga Sempre sempre meglio prenderla anche questa è una bella arma e la si prende boom abbiamo già due armi così Boom lo streamer si la saluta Mamma mia che pick up Che più Ma mia Facciamo bait Raga l'ho sentito È qua dietro eh Boom yeah Si chiama proprio boom yeah Ah vabbè ma ho capito ma era una Era innocuo pulcino E l'innocuo No Jade non perdona lo sai vero Ok Ci mettiamo qua in casa Ok no no vabbè No bello Tu sei morto Cioè tu sei mio Cioè tu non hai capito Non mi puoi scappare È mia la kill Guarda questo Guarda questo Sto malandrino che mi ha rubato tutto Cambiamo armi Raga Una Partenza strabiliante per jayden qui eh Guardiamoci bene intorno perché qua L'infame è dietro l'angolo Dai Oh 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 Look il ninja È solo ninja fake Mamma mia raga ma Jaden Che ha combinato qua Oh Oh Dove pensi di andare Camperato col cecchino qua dentro Infame Però mi piace Ma impara a giocare Sta partenza non ci voleva ve lo dico Però abbiamo comunque spaccato E lo so che jayden è entrato nei vostri cuori Prima ha portato mediamente fortuna Sia a salutare quello del bus Sia a buttarsi sulla prima città Quindi Ritorniamo a fare la stessa identica cosa Ma a sto giro jayden vuole visitare i paesi freddi Vuole andare qua Dai vichinghi L'arma lì ma Ok Presa Presa La presa Grande jayden Un passo avanti jayden Io è Mi spiace bello ma Se ti lascio in vita No jayden Lasciami in pace Via 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 K Adesso sono io con la preda Sono io la preda Quattro colpi di pompa Non so se basteranno Per una vittoria reale Ma ci proviamo Noi risaliamo Mamma mia Oh Sei pazzo Ma tu sei pazzo? Oh no Un'upaz Tu sei pazzo un'upaz Ok Ok Oh E questa Ma che stava succedendo lì? Era una guerra tra Senza armi Cos'era? Ho fatto E oggi Che potte Dovete tutti Comprare sta skin Perché veramente Cioè Mette Mette il buon umore Jaden Sapevo Che non avrebbe Deluso Nessuno E di fare un giro Velocissimo Proprio qua Fare due fotografie Prendere due casse E via One Two Carpiato E si va Si vola Verso altri destini Oh mio dio Il cubo là Cioè Aspettate ma Questo qua Lascia I segni luminosi Qua X files E poi Si teletrasporta In un'altra parte Cosa sta cercando Di fare Sto cubo Pensavo Non mi avessi sentito No Mi sta Sento Altra gente Ok E questo è andato Attenzione So che sto per dire una cosa Che proprio È pesante È pesante Ma siamo a 7 kill Il mio record è 11 5 Non la Non volevo dire niente No Non dovevo dirlo Lo sapevo Non dovevo parlare Il mio record di kill Non lo supererò mai Anche con Jaden Guarda Erano tutti Quintorno Erano Mazzavo questo La palla Sempre colpa dei pelati E la prima parte È andata di sfiga E la seconda parte È andata di sfiga E io Alla terza Mi do una palata in testa Va male anche questa È giunto il momento Di vedere un panda In città Non si è mai visto Mi piace Posso tranquillo Olè La cassettina Qua per noi E chi ci ferma più Chi Ci beviamo Il nostro yogurtino Poi verrà il resto Il resto si vedrà Non capisco questo dov'è Ve lo giuro Cioè so che c'è uno Qua Puoi essere amico mio Boom Ciao grazie È stato un piacere Arrivederci Senza un pompa È pesante giocare comunque Panda 1 Avversario 0 Dov'è Woohoo Eugh Hey hey plot liaison E' Riguardiamo un attimo Il nostro inventario E cerchiamo di farci Qualche materiale Va C'è uno dentro Il palazzo Ma non capisco Dov'è Ma già che sta camperando È un buon segno Vuol dire che non è uno Forte Qua? Boom! Poi stavi di scappare al panda! Dive un po'! Ok, va bene! Qua stanno tutti combattendo! Io muro uno scorreggino per la tensione! Olè! Ora visto che so che c'è qualcun altro qua... Questo ce lo spariamo! Tanto per! Ci spariamo pure questo! Quanti... Quanti sono? Io non vi faccio vedere! Oh! 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 Ocho! Oh! 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 E' riuscito il vincitore Non lo so Non so come ho fatto raga Lo dico Sto sudando Abbiamo tutti i materiali raga abbiamo fatto jackpot Hai visto un po' Chi mangia solo bambù che cosa succede E' vero che abbiamo mollato il cecchino Il fucile da caccia però vabbè dai Scialla che fa Non trovo lanciarazzi da sei anni A me va bene così Siamo rimasti in dodici 5 kill Ma possiamo ancora far meglio Il panda non si ferma qua 5 secondi e sappiamo dove andare Visto che non vedo nessuno intorno a me Piccolo panda Inizia a avere il batticuore Vabbè noi ci facciamo un furtinello Prima o poi qualcuno arriverà Questa è sempre tensione raga Non preoccupatevi Se sentite un rumore di sottofondo È il Dolby Surround Secondo me Di 4 persone A parte me Ce n'è soltanto uno bravo Ucciso quel bravo lì Secondo me gli altri due Non sono così bravi Ottimo Ma non mi ha Non ha colpito nulla Però anche lui lancia razzi Quindi ha fatto vedere le sue armi In realtà Nessun problema Nessun problema Te li faccio sprecare prima a te i colpi Ve lo dico raga L'ultimo è sicuramente un pollo Eh Cacchio Dobbiamo entrare nella zona Per andare all'altra zona Tanto lo so che metterà il coso per volare Lo conosco bene No Sapevo io Eccolo l'altro L'ho visto Aiuto 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 Non ho mai combattuto in sta zona Aiuto No Sempre più lontana No Non potevo trovare una partita normale Con persone normali No Tutti che si studiano Come se fossimo dei biologi Ora Dietro di me No Lo so Che ce l'avete con me Aiuto Ok Ho finito Tutti i materiali Dai Vabbè Sono seri Sai che c'è crepo raga Dai Dai Oh La potenza di Jayden! Mamma mia! che sudata ve la faccio vedere tutto che ansia e ce ne andiamo a casa così animali di male questo video in compagnia di Jayden la skin di Jayden che è stata strafortunatissima finalmente abbiamo vinto anche in solo tra l'altro ho vinto anche all'inizio come ho fatto vedere ma direttamente in un video sono stracontento davvero qua merito li merito almeno 35 mila mi piace ovviamente ci sarà una nuova skin nel prossimo video mi raccomando continuate a sopportare questi video soprattutto perché siamo in Giappone li sto preparando tutti grazie a tutti per essere davanti in fondo siete i migliori vi potete iscrivere al centro e guardare altri miei due bellissimi video ai lati e nel cese becchio ad un prossimo video stay angry stay Jayden